Inevitabile oggi parlare della morte di Germano Celent che ci coglie davvero di sorpresa perché quegli 80 anni che l'anagrafe gli attribuiva di fatto quasi non sembravano tali visto che il curatore, critico d'arte genovese, fino a poche settimane fa lo trovava in giro per le mostre con i suoi capelli lunghi, bianchi, tutto vestito di nero, queste mani piene di anelli. Se ne va, ha ucciso dal Covid purtroppo dopo alcune settimane di ricovero al San Raffaele ma questa è soltanto la cronaca e come spesso succede ogni volta che un grande personaggio ci lascia è inevitabile tracciarne le gesta, la carriera, i successi con quello che giornalisticamente si definisce come un coccodrillo. Purtroppo di questi coccodrilli negli ultimi tempi ne abbiamo fatti parecchi anche perché tanti protagonisti dell'arte italiana ci hanno lasciato, ahimè, nelle ultime stagioni. È chiaro che il nome di Germano Celant si lega a quello dell'arte povera. Il 1967, così quasi in sordina rispetto a ciò che poi diventerà il più grande movimento dell'arte italiana del secondo dopoguerra, l'arte povera viene battezzata con una mostra alla Galleria Labertesca di Genova, proprio la città di Germano Celant e nel giro di pochi mesi questo movimento, inizialmente fluido, poi molto più ristretto, che guarda sì al minimalismo americano, guarda certamente alla land art, all'arte comportamentale, ma che ha un profondo senso di italianità rifacendosi a un certo calore mediterraneo che così possiamo far risalire anche a Burri, a Fontana. In qualche misura, dicevo, l'arte povera sbaraglia completamente il mondo dell'arte come noi lo intendevamo con una mostra che passò alla storia, era il 1968, arte povera, azioni povere alla Rocca di Amalfi, quindi non in uno spazio classico, tradizionale, un white cube, un museo, ma per pochi giorni la città della costiera campana venne letteralmente presa d'assalto da tutti gli artisti dell'arte povera, da Pistoletto, Mertz, Paolini, ma anche da degli artisti stranieri come Jan Dibetz, che fece quel lungo lavoro, quel lavoro di quella lunga striscia bianca sul mare, lo stesso Michelangelo Pistoletto che animò le piazze del centro storico. Ricordo bene che Germano Cenant pubblicò uno dei suoi primi testi, manifesti, sull'arte povera dal titolo Appunti per una guerriglia, questo senso così legato in fondo alle piazze del 68, alla ribellione del 68, non poteva non venire fuori da una città come Torino, dove da una parte certo il peso della grande industria, mi riferisco alla Fiat e al suo indotto, condizionava di molto l'andamento anche temporale della città, ma dall'altra parte noi avevamo una, per così dire, vocazione alla sperimentazione, ai nuovi linguaggi che passavano anche attraverso le università occupate, il teatro d'avanguardia di ricerca, la poesia, la letteratura più spontanea, eccetera. Michelangelo riuscì a mettere in evidenza questo aspetto che in realtà cambiò in maniera piuttosto veloce negli anni successivi quando l'arte povera divenne tutti gli effetti il grande movimento internazionale che conquistò i musei a partire dal Castello di Rivoli che nasce nel 1984, diventa a tutti gli effetti il museo dell'arte povera, ma soprattutto il grandissimo mercato internazionale. E' un po' la storia, se volete, della generazione del 68 che da ribelle diventa un po' quella che va a occupare la stanza dei bottoni, non mi riferisco certo soltanto all'arte. E' chiaro che per alcuni artisti come Mario Merzi in particolare o Michelangelo Pistoletto la presenza di Celant fu una vera e propria rivoluzione, se si pensa che Pistoletto lavorava dei quadri su sfondo nero vagamente beconiani o che Mario Merzi addirittura arrivava da un'esperienza pittorica in simile informale con ascendenza tipo gruppo cobra, entrambi andarono in una direzione che poi portò loro fortuna, quella degli specchi da una parte e quella degli glu, ma pensiamo al lavoro di Alighiero Boetti, di Giulio Paolini, di Giovanni Anselmo, di Giuseppe Penone, di Gilberto Zori, insomma di Marisa Merzi, artisti che sono diventati e sono stati davvero il pilastro dell'arte italiana in una visione che tendeva a essere molto inclusiva, tutto ciò che funziona sta dentro, tutto ciò che non funziona sta fuori e sostanzialmente non viene quasi considerato, però forse ridurre all'arte povera la lunghissima carriera di Celant vuol dire in qualche modo non rendergli giustizia fino in fondo, si trattava di una persona vorace dal punto di vista intellettuale con passioni che andavano dalla fotografia al New American Cinema, dai saggi del suo maestro Eugenio Battisti fino alla valorizzazione definitiva di alcuni artisti, grandi artisti italiani come Emilio Vedova, come Piero Manzoni, come Mimmo Rotelle e più recentemente Emilio Isgro, che in qualche misura anche grazie al lavoro importante che è stato fatto da Celant hanno acquisito un grande valore sul mercato. le sue mostre davano, hanno dato al Guggenheim di New York, al Centro Pompidou a Parigi, a Palazzo Grassi, alla Royal Academy a Londra, hanno dato davvero il taglio, la sua era la visione dell'arte italiana e credo che soltanto Achille Bonitoliva in parte abbia potuto così condividere il podio più alto rispetto alle generazioni successive che invece hanno fatto scelte completamente diverse o diventare curatori internazionali globetrotter legati agli eventi oppure degli studiosi in questo senso molto molto più marginali. Celant invece ha lasciato tonnellate di pagine, volumi, cataloghi, studi filologici su cui ci siamo bene o male formati tutti e nell'ultima fase della sua carriera, al di là della grande mostra arti architetture a Genova, al di là della mostra art and food alla Trinale di Milano in coincidenza con l'Expo, Celant lega il suo nome ovviamente alla Fondazione Prada, in particolare all'apertura del nuovo spazio progettato da Rem Colas con mostre curate da lui o comunque sotto la sua supervisione diretta, mi riferisco per esempio alla riscoperta degli artisti pop di Chicago oppure le mostre fatte con Francesco Vezzoli. Ci lascia, un po' sorprendentemente non era facile avere a che fare con lui, diciamo era una persona per certi versi assolutamente inarrivabile, una persona che conosceva perfettamente anche i trucchi se vogliamo di questo di questo mestiere, ma che davvero ha rappresentato in qualche modo la fine del Novecento in Italia, ora si tratterà di capire se date le circostanze qualcuno potrà raccoglierne l'eredità per quanto così lontana e così difficile. Di fronte a un maestro ci si toglie il cappello, non sempre siamo stati d'accordo nel pensare che la sua fosse l'unica visione dell'arte italiana, però lui la visione l'ha data, la storia l'ha fatta e dunque la terra gli si allieva.